Un terremoto è stato registrato in una regione della Corea del Nord in cui si era di recente svolto un testa nucleare. Il centro sismologico cinese ha stimato la magnitudo in 3.4 e definito la scossa come sospetta, ma l'Agenzia Meteorologica Sudcoreana, che parla di magnitudo 3, lo imputa per il momento a cause naturali. Gli esperti cinesi sostengono che l'epicentro coincida con il luogo del testa nucleare effettuato da Pyongyang il 3 settembre e che l'ipocentro si situerebbe stranamente a una profondità zero. I precedenti test nucleari nordcoreani avevano tuttavia sempre provocato scosse più potenti fra il 4.3 e il 6.